E' da pochi giorni nelle librerie, Resi Istanbul, edito da Imprimatur, la Turchia al bivio tra Gezi Park e l'islamizzazione di Erdogan. Gezi è stato il pretesto per raccontare cosa è successo in questi dieci anni di governo Erdogan, di governo dell'HP, un partito inizialmente islamico moderato. Quando è scoppiata la protesta il 31 maggio a causa dell'assalto di un gruppo di poliziotti in assetto antisommossa contro le tende degli ambientalisti che cercavano di difendere il parco di Gezi, tutti si sono domandati dove fosse questo parco, cosa fosse, perché fosse così importante. Il parco era un pretesto, una scusa, per difendere gli spazi pubblici di Istanbul che sono sempre più occupati da centri commerciali, mall, palazzi, in ossequio all'idea di islam e affarismo di Erdogan. Perché una semplice protesta ha scatenato una reazione così violenta e anodita? A Gezi il governo voleva costruire una mall e la replica di una caserma ottomana che agli inizi del Novecento era stata teatro di una rivolta di soldati che non volevano sottomettersi all'idea laica dello Stato turco, della Turchia moderna. Questa replica della caserma ottomana è suonata come un tentativo ulteriore da parte di Erdogan del governo che cercano di imporre una visione dell'Islam, una visione della società non più laica ma legata alla religione, dietro la quale però c'è un affarismo. Si è trattato di una rivolta contro un modello politico ed economico della società che i giovani hanno rinominato fascio islamismo perché ritengono che questa brutalità da parte della polizia, questa risposta così brutale ad una manifestazione totalmente pacifica sia la risposta, non una risposta religiosa ma una risposta di un mondo affaristico che non vuole vedere i propri interessi messi a rischio, messi in pericolo da giovani che non vogliono aderire ad una società islamica e capitalistica nello stesso tempo. Qual è la differenza tra la rivolta popolare di Gezi Park con l'esplosione dei movimenti che si è registrato in Europa come ad esempio in Italia con il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo o gli Indignados in Spagna? Quando ero lì tutti mi chiedevano del Movimento 5 Stelle perché anche loro chiedono una democrazia non più rappresentativa ma partecipativa. Rispetto alla nostra protesta non è poi così diversa perché in fondo quello che viene messo in discussione è un sistema, una struttura, un modo di vedere il mondo e le sue risorse. è finita poi con un assalto molto brutale da parte della polizia, sono morti 5 ragazzi, 11 sono rimasti accecati dalle pallottole di gomma e dalle cartucce di gas lacrimogeno. Molti colleghi mi hanno chiamata appunto dalla Turchia dopo aver visto le immagini delle cariche che ci sono state da parte della Celere nei confronti degli studenti che manifestavano la sapienza sono stati attaccati entrambi, sia quelli italiani sia quelli di Ghezzi, dalla polizia mentre si trovavano a manifestare pacificamente. È un comune denominatore che si è potuto notare in tutte le proteste che ci sono state da Occupy, Wall Street, l'Indignado Spagnoli. A questa protesta hanno partecipato anche numerose donne, è un po' una novità per quanto riguarda il mondo medio orientale. A Ghezzi c'erano moltissime donne, diciamo più della metà, giovani fino ai 40 anni. Si è trattato di donne laiche e donne musulmane. Manifestavano contro un modo di porsi nei confronti dei cittadini da padre padrone quale è di fatto Erdogan. Vi faccio questo esempio. Quest'anno Erdogan ha abolito l'aborto, l'ha reso illegale. Inoltre se una donna sposata va da un ginecologo e il ginecologo constata che è incinta è obbligato a chiamare il marito di questa donna. Se questa donna non è sposata, è una ragazza ed è incinta, il ginecologo è obbligato ad avvertire il padre.